Il 26 giugno, teleschianto, festa della salsiccia, Castelvecchio, si mette in gestito migliore, per la sagra dell'anno, Castelvecchio vanta numerone feste, festicciole, ma questa è la festa clou, parlo piano, questa è la festa clou. Giusto. Allora, cara mia, cosa ne penso della salsicciata? È una festa bellissima, dovete venire, chi non è mai venuto deve venire perché è bellissimo. Molte grazie, molte grazie, molte grazie. La signora Bancanella delle Carrettiere, come si prevede la serata? Momentaneamente, con te davanti, così diciamo, poi più tardi vedremo. Cosa ci faccio io?